Ti senti? Aspetta, sono arrivato qua? BOOM Devi prendere l'ascensore Ah, questo qua posso Vieni qua, vieni qua, vabbè Trovatelo? Dov'è? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Aspetta, ci sono due Allora, dice che ci sono due Che non si possono... Sono bloccati Altra I 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 Altra 1, be advised, that safe is bringing heat your way. Be ready for a gunfight. 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 Altra 1, the safe is open. Secure all contents. Be ready for a gunfight. 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 Oh, oh, andiamo, andiamo. Oh no, tu qua, io voglio finire sta missione. Devo salire da qua. Altra 1, this is actual. UAV has established orbit. C'è. C'è. Allora, la resection è qua. C'è. Allora. Andiamo, andiamo, dai. Non può essere perché non c'è. No, le porte devono essere chiuse e si deve... si deve salire da piano di sopra, saltare dalla finestra. Io ci sono entrato una volta. comprati, comprati l'arma, tieni. Sì, comprati l'arma, Corvo. Tieni, perditi i soldi. Da Ralph. Altra 1, be advised. Radiation is incoming. We're moving to the final extract point now. This is your last ride out. Altra 1, Dino IV. Nel MZ? Andiamo, ok. Altra 1, Dino IV. We're approaching the LZ. Got it. Where's it? Ok, andiamo, dai. No, no. Altra 1, Dino IV. We're approaching the LZ. Get it secured. e io non ho preso curazzo, guarda puttana non ho io, guarda non c'è l'altra volta, guarda e se c'è gente no, no, no non lo chiamare fammi venire più male che se no non ci arriviamo più stai nuotando? non lo chiamare 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 Il risultato è più vicino a vostro location, stai alert. 4-0-1, Dino-4, siamo arrivati dall'AO, non possiamo stare qui, sono scusate. 5-0-1, Dino-4, siamo arrivati dall'AO, non possiamo stare qui, sono scusate.